Ultimati i termini per la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di A2, il Vole Soverato si appresta di fatto a disputare la sua nona stagione consecutiva nel campionato di A2. Presidente Matozzo, sicuramente questo è motivo di soddisfazione perché nove campionati consecutivi in A2 non sono pochi. Ma sicuramente è un bel traguardo, io di questo ne sono orgoglioso e sono ancora di più orgoglioso perché siamo state la prima squadra di serie A1 e A2 ad aver presentato nei termini e nei modi che ha prescritto la Lega e quest'anno sono veramente modalità totalmente diverse, a me fortemente sconosciuti, io non l'avrei mai fatto. Io mi sono sempre limitato a riempire il cartaceo. Invece devo ringraziare, lo dico veramente con grande soddisfazione, Daniele Rondinelli e Corrado Corradini che mi hanno aiutato tantissimo a svolgere questi adempimenti di iscrizione al campionato di A2 per via online, per via elettronica, tanto per intenderci. E i signori che l'hanno ricevuto lì alla Lega, parla a volo, ovviamente che conoscono il Presidente Matozzo perché è Vicepresidente, perché è componente del CDA, si sono complimentati per la rapidità e per la precisione, per cui un mio personale grazie pubblico a Daniele Rondinelli e a Corrado Corradini. Evidentemente quest'anno si sono messe le condizioni di fare qualcosina di positivo e di diverso agli altri anni. Quindi diciamo che allo stato attuale abbiamo iscritto la squadra nove anni, che sia ben chiaro, nove anni di A2, lasciamo perdere B1 o B2, a dispetto di altre società di prestigio che dopo tanti anni si sono dovuti ritirare dalla competizione di A1. Vedi Pesaro che ha lasciato ovviamente l'A1. Per quanto riguarda invece il volle mercato, siamo in pieno volle mercato perché fine giugno trattative in corso, il Soverato sotto questo profilo possiamo dire che tra virgolette si è portato avanti perché è quasi definito ormai il roster 2018-2019, sono tante già le ufficializzazioni della società per quanto riguarda le nuove giocatrici e le conferme. Quindi ora ultime trattative in questi primi giorni di luglio ci saranno per definire il tutto, però grande impulso di coach napolitano definito anche il nuovo staff tecnico a tal proposito. È vero, tu sei testimone vivente di quante difficoltà abbiamo avuto negli anni passati a raggiungere perlomeno una bozza di squadra nei termini accettabili. Io posso dire con grande soddisfazione che ad oggi la squadra volle Soverato nei dodicesimi che comporranno sicuramente questo roster del stagione 2018-2019. Grazie all'impegno proficuo, costante, di grande entusiasmo del coach napolitano e del secondo allenatore Diego Boschini che per la verità ha manifestato, pur venendo dal nord, non è una cosa da poco, ha manifestato tanta voglia e tanta gioia di arrivare a Soverato per interessarsi sia della prima squadra sia del settore giovanese. Quindi avviso ed informo tutte le mamme che hanno portato fino all'anno scorso nel parazzetto le loro figliore per fare il settore giovanile che anche quest'anno noi doteremo questa società di un grandissimo allenatore del settore giovanile che fra altre cose, Pietro, non è cosa da poco, ha vinto campionate under 16, under 14 a livello nazionale ed europeo. Viene da una scuola dove credo che la pallavolo sia di casa, stiamo parlando di Bergamo, non stiamo parlando né di Petrizzi, non me ne voglio leggere di Petrizzi tanto per fare un nome. E quindi anche in questo Soverato si è dimostrato all'altezza della situazione. Abbiamo un nuovo scoutman che è Calabrese, e viva Dio, finalmente, un allenatore Calabrese, un scout Calabrese. Crediamo di riempire, di completare lo staff medico anche con gente Calabrese, con giocatrici, molti sono anche del meridione. Io cito su tutte Ramona Ricò, che più delle volte abbiamo cercato ma avevamo richieste di ruoli diversi, che adesso l'abbiamo chiesto nel suo ruolo, che è un opposto, che ha tantissima voglia e sicuramente quando giocheremo in casa tutta Messina verrà a vederla giocare, quindi è questo motivo d'orgoglio. Come motivo d'orgoglio è questo allenatore Calabrese di Catanzaro. Io sono veramente felice, quest'anno con questi giocatrici che abbiamo preso, Pietro, credo che ne avete sentito parlare, io spesso e volentieri dimentichino, devo ricordare tante cose. A cominciare dalla nazionale Under 18, Tanase, che dicono tutti un talento naturale che sicuramente avrà un futuro eccezionale. La stessa Baldoni, che è un palleggiatore Under 23 della nazionale, quindi due nazionali. Abbiamo altri giocatrici che vengono da categorie superiori, giovanissime. Io ho visto il mio allenatore Bruno Napoletano esultare di gioia quando tu gli dici ma Bruno questa qua ha 20 anni, 22, non ha nessunissima importanza. A lui fa piacere avere questo. Per concludere quest'altra mia gioia, Lucrezia Formenti, che faceva il jolly della squadra l'anno scorso e tesserata con la Volli Solerato, unica che ha dato questa disponibilità. Le altre non sono volute rimanere, per l'amore di Dio, rispettiamo tutte le scelte delle giocatrici. Però questi sono i presupposti per girare pagina per un'annata non tanto felice 2017-2018, per riaprire una nuova dove mi auguro con questi giovani sulle quali finalmente posso contentare il mio carissimo avvocato Massimo Gualtieri che mi dice ma tu devi costruire qualcosa, non ne confermi nessuno. Io lo vorrei invitare a venire a fare lui i contratti. Quest'altro possiamo fare trattative perché sono tutti 18, 19, 20 anni e 22. Possiamo dire in tempi utili rimanete anche il prossimo anno per disputare. Io mi auguro di cuore in un palazzetto diverso da questo a disputare un campionato di categoria superiore perché dopo nove anni di A2 merito di fare il salto di categoria. L'ho merito io, lo merita la città di Soverato, lo merita Soverato 1 che ormai è stanca di riprendere sempre le squadre di A2. È necessario che venga a fare le riprese di A1. Io lo auguro a me stesso, lo auguro alla città di Soverato, lo auguro a tutti e poi perché no? Siamo in trattative finalmente con due o tre realtà finanziariamente portate a poter fare, a darci una mano. Che voglia il patritiano è che anche quest'anno riesco a trovare io uno sponsor, un mio sponsor e se non riusciamo a trovarlo invito i cittadini a darmi una mano come hanno sempre fatto.